Edmond, Paola, Amir, Simone, Fang Fang, vieni anche tu Comincia la lezione forte! Comincia la lezione forte! Giochiamo? A che cosa giochiamo? Mosca cieca! A chi tocca? Facciamo la conta! Sotto il ponte c'è un bambino che si mangia il gelatino Quante macchie si farà? Quattro! Una, due, tre e quattro! Tocca a Paola! Attenzione! Ti ho preso! Indovina chi è? Ha capelli corti e ricci, è Amir Brava Paola, ora tocca a Amir Attenzione! Ti ho preso! Indovina chi è? Ha i capelli lisci e il naso piccolo È Fang Fang! Bravo Amir, tocca a Fang Fang! Grazie a tutti per Sham囉! Grazie a tutti.